buongiorno fratelli e sorelle vogliamo iniziare questo servizio cantando insieme l'inno numero 5 quale amico in cristo abbiamo numero 5 buongiorno fratelli e ruo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cantiamo insieme l'inno numero 4. Inno 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 numero 4. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Grazie a tutti. Inno numero 4. E porti frutto per la gloria del tuo nome. L'odio e gloria e gloria e gloria. che ci dicano, che ci dicano, che ci dicano una parola di saluto. E' il coro è il coro. E' il cantico, che ci dicano, 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 che ci dicano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello Kupfer tradurrà. Dio vi benedica riccamente. Ricevete i saluti dai fratelli e le sorelle da Kigali, Ruanda. Quello è veramente breve. I fratelli del Congo, dalla mia assemblea, dove io predico, e da altre assemblee, e si sanno che oggi io sono qui ed hanno detto di salutare tutti i fratelli e le sorelle nel nome di Gesù Cristo. Portoghese. Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Dov'è il fratello Helmut Miskis? Egli può tradurlo in portoghese. Un altro, sì. Questo è il fratello Celestine dall'Australia. I fratelli e le sorelle dall'Australia, da Sydney e Melbourne, vi danno i saluti nel nome di Gesù Cristo. Noi vi amiamo e preghiamo per voi. Era un grande desiderio per me essere qui. Il Signore vi benedica tutti. Saluto tutti voi nel prezioso nome del Signore. È bello essere qui. Vi porto i saluti da numerosi fratelli e sorelle da Città del Capo. E possa il Signore benedire tutti noi questa mattina? Tramite la sua parola. Grazie. Vi saluto tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. Noi siamo una piccola assemblea a Berna. Berna, Svizzera. Solitamente veniamo qui con alcuni fratelli e sorelle. Ma tutti quelli che abbiamo lasciato nell'assemblea vi mandano i saluti. Siamo veramente riconoscenti per la parola. Il Signore vi benedica. Vi salutiamo nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. È stato detto i fratelli dell'Africa. Noi siamo qui da Parigi. e voglio soltanto dire quello che è stato detto anni fa ciò si adempie ora. Che queste case sarebbero state edificate anche per le persone che vengono da fuori per ascoltare la parola di Dio. Noi siamo sempre toccati profondamente da ciò e vi portiamo i saluti con tutto il nostro cuore perché in questo luogo è predicata la vera parola di Dio. E noi crediamo con tutto il nostro cuore che qui rimaniamo nella verità. Vi auguriamo buon appetito nella parola di Dio. Saluto tutti voi nel nome del Signore Gesù Cristo. Amén. La Chiesa del Signore in Angola da Cabinda Luanda saluta tutti voi nel nome del Signore Gesù Cristo. Mia moglie è con me possa Dio benedire tutti voi. Anche la mia casa e la mia famiglia salutano tutti voi nel nome di Gesù Cristo. è scritto nella parola di Dio Beato il popolo che conosce il suono della tromba. Amén. Dio vi benedica. Un momento traduci per i fratelli. Per favore traduci ora per i fratelli. traduci in francese ora alziamoci tutti in piedi. Vorremmo che i nostri fratelli sapessero che noi li amiamo li apprezziamo che stiamo dietro il loro ministero e siamo riconoscenti a Dio che essi portano la parola nel loro paese. Naturalmente se lasciassimo predicare tutti i fratelli qui in questo luogo allora non sapremmo chi dovremmo chiamare e chi no e quindi abbiamo compreso ciò e vi auguriamo con tutto il nostro cuore la benedizione di Dio. Per me è una gioia speciale specialmente quando penso all'Africa il fratello Branham disse nel 1965 di aver visto le manistese in Africa ed egli aveva una grande brama di venire in Africa tuttavia ciò non gli fu più permesso di predicare nel suo passaporto c'era un timbro per il quale egli non poteva partecipare ad alcuna riunione religiosa solo perché le denominazioni non lo volevano ma Dio ha trovato una via affinché il messaggio giungesse è là una grande raccolta è stata portata dentro è lo stesso messaggio la stessa parola di Dio che voi e noi portiamo insieme allo stesso tempo vorrei indirizzare una parola a tutti i fratelli tutti i fratelli in tutte le nazioni in ogni lingua e specialmente voi che siete qui oggi Dio vi benedica nel ministero del Signore il momento è giunto in cui dobbiamo parlare un solo linguaggio e cioè dire quello che Dio ha detto e il fratello Kupfer oggi ha già detto davvero una buona parola per favore traduci egli mi ha detto questa mattina in ufficio fratello Frank si tratta del fondamento si tratta del fondamento e dopo è importante come vi si edifica sopra entrambi devono essere giusti entrambi devono essere corretti il fondamento deve essere corretto e Paolo disse io ho posto il fondamento lo stesso fondamento deve essere posto oggi e per edificare correttamente su questo deve essere predicato lo stesso modo l'edificazione della chiesa è sempre la stessa è così noi ringraziamo Dio per tutti i fratelli nel ministero in tutte le lingue il fratello Smith ci ha dato i saluti dal Kazakhstan dall'Ucraina dalla Russia dalla Moldavia dall'Armenia dovunque si parli la lingua russa lì i fratelli ci mandano i saluti e noi trasmettiamo di nuovo questi saluti dopo abbiamo ricevuto saluti dalla Finlandia dal Kenya dalla Repubblica del Congo dal Cile abbiamo ricevuto pure i saluti da ogni parte i nostri fratelli e le nostre sorelle sono uniti a noi perché sono uniti con il Signore chiunque è unito con noi è unito con il Signore è unito con la parola e con il vero messaggio ora preghiamo e chiediamo al fratello Graf di venire di nuovo e pregare e pregheremo insieme ora specialmente per tutti i fratelli nel Ministero fedele Padre nel Cielo ti ringraziamo per il privilegio che questa mattina possiamo essere radunati sotto le cheggiare della tua parola Signore tu conosci la nostra posizione tu sai come noi la pensiamo Signore vogliamo esprimerlo abbiamo una sola cosa nella nostra mente vogliamo ascoltare la tua parola non vogliamo soltanto ascoltarla vogliamo pure riceverla non vogliamo soltanto riceverla vogliamo anche agire di conseguenza così Signore noi ti ringraziamo che non siamo venuti qui in vano tu ci rivelerai la tua parola tu ce la darai tu ci darai pure il giusto atteggiamento affinché possiamo avere possiamo agire di conseguenza perché tu ci hai chiamato fuori da ogni popolo lingua e nazione Signore tu ci hai pure chiamati fuori da tutte le false denominazioni ci hai messi su questa roccia e tu stesso hai detto su questa roccia edificherò la mia chiesa e questa chiesa viene da ogni popolo lingua e nazione così Signore io ti chiedo possa tu benedire tutti i nostri fratelli possa tu essere con loro Signore possa tu toccare il loro cuore affinché possano andare via da qui con un cuore pieno per portare a predicare la tua parola in ogni nazione perché quella è la tua volontà che ogni anima predestinata sia chiamata fuori noi ti preghiamo per questo e ti diamo l'onore e la gloria per quest'ora per questo giorno Signore è il tuo giorno e noi ti benediciamo e ti lo diamo per questo nel nome santo di Gesù alleluia alleluia cantiamo questo è il giorno Grazie a tutti i nostri fratelli Grazie a tutti. Di cantarci un inno. Più tardi anche il nostro fratello e la sorella dalla Bielorussia canteranno pure loro ancora una volta. Ora vorrei dire ai nostri fratelli qui, come Paolo disse in Galati capitolo 1, No, voi per i giudei, noi per i gentili. Così io dico oggi, noi in Europa, voi in Africa, ma è la stessa opera, la stessa parola, lo stesso messaggio. Dunque, possa il Signore Dio benedirvi ed essere con voi. Siate fortificati, molte preghiere vi accompagnano e il Signore che ha iniziato la sua opera la porterà pure a compimento. Padre Celeste, ancora una volta chiediamo la Tua benedizione per i nostri fratelli. Sii con loro in modo speciale, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Potete sedervi. Dio vi benedica. Die Liebe Gottes ist vielmehr, als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zur tiefsten Sündenbahn. Die Liebe Gottes ist vielmehr, als eine Zunge��면. Oh, liebe Gott, das reich und rein, so grenzenlos und rein, in Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn eins entschwindet diese Zeit und irtsche reiche Hilfe ging, wenn Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Fest um Hilfe fliehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied sein. Oh, liebe Gott, das reich und rein, so grenzenlos und rein, in Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tönter füllten und wär der Himmel Pergament, Wenn jeder Halb wär eine Feder, so dass man damit schreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weiter mehr verzehrt. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied der Heiligen sein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied der Heiligen sein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied der Heiligen sein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied der Heiligen Lied der Heiligen sein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied der Heiligen Lied. Anch'io saluto e do il benvenuto a tutti voi e saluto tutti i nostri amici, sì, in ogni popolo, lingua e nazione il Signore Dio sia grandemente lodato e in primo luogo per il grande privilegio che possiamo vivere ora che possiamo ascoltare la Sua parola e dopo per la grande grazia che possiamo ricevere la Sua parola per fede e possiamo viverla e come abbiamo enfatizzato la sera scorsa quando il nostro Signore dice santifica lì nella Tua parola la Tua parola è la verità allora noi dobbiamo essere realmente nella parola per essere in grado di essere santificati da Lui e al riguardo leggeremo alcune scritture per avere davanti a noi che il tempo della separazione è giunto separando la luce dalle tenebre separando la verità dalla menzogna la parola da tutte le interpretazioni e al riguardo ho scelto la parola in Due Corinzi capitolo undici ed io spero che ognuno si senta a casa ognuno da tutta l'Europa e da mezzo mondo Due Corinzi capitolo undici qui Paolo scrive con la responsabilità che egli aveva davanti a Dio per la Chiesa che egli chiama una casta vergine egli voleva presentare a Cristo una casta vergine Due Corinzi capitolo undici dal verso due infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo per favore aspettatevi da noi che oggi portiamo lo stesso messaggio aspettatevi da noi la stessa gelosia per la Chiesa del Dio vivente la stessa gelosia ci guida e questo per lo specifico motivo perché la sposa è fidanzata a Cristo lo sposo e a nessuno è permesso di toccarla nessuna contaminazione nessuna seduzione può accadere lo sposo celeste ha il diritto ad una pura e casta vergine ad una pura sposa già nell'antico testamento Dio diede i comandamenti che dovevano essere osservati ma dopo viene Paolo che va dritto al punto ed egli ritorna indietro al giardino dell'Eden nel verso 3 ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo Satana sin dall'inizio iniziò a sedurre Adamo ed Eva tutta l'umanità per allontanarli dalla parola originale per mettere poi dietro il suo punto interrogativo a Dio detto non è così male no voi non morirete è quello che Dio disse fu adempiuto l'umanità fu separata da Dio consegnata alla morte ora Paolo in quel tempo disse io temo io temo che con voi fratelli e sorelle con voi i credenti accada la stessa cosa come è accaduto con Eva poiché il nemico è astuto ed egli usa sempre la parola di Dio con la differenza che egli inganna le persone con ciò poiché egli rende la sua propria interpretazione come essendo l'originale e questa è la trappola alla quale tutti noi dobbiamo stare attenti dopo continua nel verso 4 e qui abbiamo i tre segni speciali che dovrebbero spiccare per noi se il nemico è già impegnato a condurci fuori strada verso 4 infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi riflettete un po' una chiesa chiamata all'esistenza tramite il ministero degli apostoli equipaggiata con tutti i doni dello spirito non c'è stata un'altra chiesa equipaggiata con tutti i nove doni dello spirito come la chiesa a Corinto è proprio là proprio là dove Dio in modo particolare in modo soprannaturale può essere all'opera ed è all'opera là il nemico farà i suoi attacchi per distruggere e condurre le persone fuori strada dopo continua nello stesso verso 4 diverso da quello che abbiamo predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto e come terza cosa ho un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi lo sopportate volentieri a Berea era totalmente diverso e si investigavano ogni giorno nella Sacra Scrittura per esaminare ciò che veniva insegnato cosa veniva predicato per confrontarlo con quello che è scritto e se non abbiamo questa intenzione possa Dio darcela non per il fatto che non crediamo quello che viene predicato ma vogliamo avere la certezza finale e questa l'abbiamo soltanto se la troviamo nella parola di Dio e se l'abbiamo confermata in essa ieri abbiamo menzionato molto brevemente che non solo le scritture vengono usate in modo errato fino a Giovanni capitolo 20 verso 23 a chi rimetterete peccati saranno rimessi iniziando con Matteo capitolo 16 dal verso 16 su questa roccia io edificherò la mia chiesa ogni cosa viene interpretata privatamente e trasmessa così in ogni soggetto dobbiamo ritornare indietro alla sagra scrittura e leggere cosa fece Pietro cosa fece Paolo come ebbe luogo il perdono dei peccati il battesimo dopo si deve andare in tutte le altre scritture leggendo nel suo nome sarà predicato il perdono dei peccati in tutte le nazioni non un confessionale ma attraverso la predicazione all'umanità è portata l'offerta del perdono e chiunque crede a questo messaggio divino chiunque crede in Gesù Cristo come personale salvatore a lui ogni servitore di Dio può dire a tutti voi che credete la parola di Dio e credete che Gesù Cristo ha perdonato i vostri peccati e vi è redenti alla croce del Calvario a voi i peccati sono rimessi nel suo nome nella stessa maniera a tutti quelli che non credono si può dire se voi non credete allora morirete nei vostri peccati poiché così è scritto così è scritto dunque per ogni soggetto tutte le scritture che parlano al riguardo devono essere considerate per avere un equilibrio nella sagra scrittura una proclamazione su un terreno equilibrato e questo Dio ce l'ha dato per mezzo della sua grazia non perché noi lo volevamo ma perché egli prima della fondazione del mondo l'ha ordinato in quel modo dunque abbiamo molte scritture che dicono che noi dobbiamo vincere che dobbiamo vincere fino al libro dell'Apocalisse capitolo 21 qui abbiamo nel verso 7 abbiamo per l'ultima volta il verso in cui è scritto Apocalisse capitolo 21 verso 7 chi vince erediterà tutte queste cose e Dio sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio proprio alla fine i vincitori saranno presi su nel rapimento tutti quelli che hanno vinto tramite il sangue dell'agnello e a motivo della parola della loro testimonianza Apocalisse capitolo 12 e se leggiamo i messaggi alle sette epoche della chiesa allora si tratta sempre chi vince e se noi leggiamo nella lettera di Giovanni allora si tratta di vincere e ci viene detto nei dettagli cosa dobbiamo vincere qui in Apocalisse capitolo 2 naturalmente è il messaggio all'angelo della chiesa ed ogni volta nei messaggi alle sette epoche della chiesa il nostro signore introduce se stesso come egli è qui in Apocalisse capitolo 2 la seconda parte dal verso 1 queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro e dove viene la descrizione della chiesa e della sua condizione in quel tempo e dopo viene nel verso 7 chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese a chi vince a chi vince prima dice tu hai messa alla prova quelli che si definiscono apostoli che affermano di essere mandati dal signore e li hai trovati bugiardi tu hai visto da dove vengono i nicolaiti e le loro opere sono odiate dal signore e dai credenti come scritto nel verso 6 ma dopo chi vince chi vince in tutti i messaggi e le sette epoche della chiesa l'enfasi è riguardo al vincere fratelli e sorelle se leggiamo tutte le scritture che parlano di vincere allora dobbiamo chiedere a Dio di illuminarci ogni area per mostrarci quello che si deve vincere persino tutto ciò che non appartiene al regno di Dio che non appartiene alla vita personale ogni cosa che ci separa da Dio sia corporalmente sia spiritualmente che riceviamo la potenza per vincere e come abbiamo già detto che tutti siano purificati dal sangue dell'agnello santificati nella parola di verità ora prima che entriamo nei dettagli di questo soggetto vorrei leggere dalle citazioni del fratello Brana giusto due citazioni che vengono usate per la distruzione dei credenti usando una punteggiatura errata punti e virgole messi in modo errato tuttavia io leggo qui dal sermone del 12 dicembre 1964 dal titolo il tempo della raccolta e qui è scritto ciò che segue io lo leggo in tedesco e in inglese affinché tutti voi comprendiate il collegamento anche in altre lingue sapete io odo la venuta della mietitrebbia il consiglio mondiale delle chiese qui ci sono due pensieri totalmente diversi e sono messi insieme e già mai nel tempo e nell'eternità non apparterranno mai insieme nel modo giusto deve essere io odo la venuta della mietitrebbia punto e dopo deve continuare il consiglio mondiale delle chiese farà la separazione e se hanno fatto del consiglio mondiale delle chiese la mietitrebbia e dopo ne fanno una frase separata egli separerà ma prima essi fanno la separazione io dico questo con dolore e non so se devo chiedere di pregare o di essere addolorati ma poiché il fratello Frank molti anni fa ha visto realmente il campo di grano il campo di grano ben maturo le spighe erano piene e curvate ben mature già un po' arse dal sole e dopo vennero le nuvole e il Signore disse mio servitore porta dentro la raccolta e dopo guardai alla mia sinistra se questo era il campo di grano e alla mia sinistra c'era una mietitrebbia nuova di zecca e il Signore disse sali su questa mietitrebbia sulla quale nessuno è mai salito prima e porta dentro la raccolta mentre andavo verso la mietitrebbia le nuvole si oscurarono e e io alzai lo sguardo e vide le nuvole che si formavano come se c'era una battaglia in mezzo alle nuvole si c'era realmente un caos un caos in mezzo in mezzo alle nuvole e io ebbi l'impressione io dissi pure caro Signore è troppo tardi non posso portare dentro il raccolto il giudizio sta per cadere questa era la mia impressione e come dissi questo ancora una volta il comando sali su questa mietitrebbia e porta dentro il raccolto e in quel momento si fece come un'apertura in mezzo alle nuvole e sembrava come se il sole brillasse sette volte più forte e con tutta la potenza splendeva su questo campo di grano e dopo cominciai a mietere alzando lo sguardo iniziai qui e andai avanti e arrivai a portare dentro l'ultima fila e in quel momento quando feci l'ultimo taglio in quel momento le nuvole si raccolsero di nuovo e cominciò a tonare a lampeggiare ed io pensai realmente ora l'intero mondo andrà a pezzi e poiché il fratello Frank ha visto questo e lo ha riferito e dato che ai fratelli negli Stati Uniti non piace questo perciò hanno fatto un atto criminale qui è quello che è scritto nell'originale e voi potete sentirlo nei nastri dove appartiene la virgola e dove appartiene il punto e quello dovrebbe stare insieme lo leggo ancora una volta come dovrebbe essere nell'originale io odo venire la mietitrebbia e se si prendono tutte le altre citazioni che ha fatto il fratello Branham in merito alla mietitrebbia e in merito al portare dentro il raccolto allora è molto chiaro ma i fratelli mentono ingannano spandono le loro teorie e questo per il danno della sposa io lo leggo ancora una volta nel contesto io odo venire la mietitrebbia e dopo poiché il consiglio mondiale delle chiese recherà l'ultima persecuzione e il fratello Branham disse nell'ultima fase quando la persecuzione verrà sopra la sposa allora il resto del raccolto sarà portato dentro e le cose più grandi che Dio abbia mai fatto accadranno nella sposa fino alla parola parlata e perciò qui l'enfasi ora il consiglio mondiale delle chiese farà la separazione sì va bene questo sarebbe il suo compito il signore disse in quel tempo il nemico ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano tuttavia tutti noi siamo consolati la sposa non sarà sedotta non può essere sedotta noi non siamo le nostre cose non siamo la nostra propria opera noi siamo stati posti da Dio per l'edificazione della chiesa per il compimento della chiesa sposa di Gesù Cristo il messaggio dell'ora è stato portato per questo scopo senza riguardo a quello che le persone dicono su di me e su di noi Dio ha la sua via e gli completerà la sua opera ancora una cosa quello che causa dottrinamente il più grande danno dentro il messaggio è qui in questo sermone credo che appartenga a questo sermone in merito al rapimento qui il fratello Branham dice il signore stesso discenderà dal cielo con un grido con un grido e dopo viene la scrittura primo testa non incesti capitolo 4 verso 17 questa è la scrittura più conosciuta che parla del ritorno di Gesù Cristo in merito alla risurrezione di quelli che si sono addormentati in Cristo e del mutamento di quelli che in quel tempo saranno in vita ed ora ascoltate attentamente un grido e dopo c'è una virgola e comunque esse scrivono a grandi lettere è il messaggio che va avanti ora è stato detto un grido punto e dopo egli si riferisce ancora a primo testa non incesti capitolo 4 e lì viene con un grido e dopo la scrittura il fratello Brann lo enfatizza ancora molto e dice un grido nella Bibbia tedesca dice una chiamata al risveglio perché si tratta della risurrezione dei morti e dovrebbe esserci un punto e dopo dovrebbe seguire ciò che viene dopo è il messaggio che in primo luogo va avanti il vivente pane di vita cosa ne hanno fatto loro il grido che avrà il luogo al diretto ritorno di Gesù Cristo sin dal 1966 essi lo predicano in collegamento con il messaggio io l'avevo già tradotto in quel tempo in quel tempo essi inventarono la dottrina che il Signore dall'apertura dei sugelli specialmente tramite il messaggio che è il grido secondo primo testano i cesi capitolo 4 dopo essi si sono levati con una dottrina che il seggio di grazia non è più il seggio di grazia ma un seggio di giudizio e dopo essi dicono ora la grazia è solo nei cuori dei credenti dove Dio ha eretto il suo trono e loro dicono ogni specie di cose fratelli e sorelle vi chiedo di comprenderlo in modo corretto non si tratta soltanto di noi in Europa si tratta di ogni popolo lingua e nazione si tratta della chiesa sposa su tutta la terra e quando Paolo scrive se qualcuno viene e vi predica un altro Gesù un altro messaggio un altro Vangelo che ha ricevuto uno spirito totalmente diverso allora voi lo sopportate io non lo sopporto e spero che tutti noi non lo sopportiamo che la nostra mente divina che è collegata con Dio e con la sua parola non sia contaminata no non lo sopportiamo di essere forviati in dottrine errate ed allontanati dalla verità dunque il nostro Signore vi scenderà dal cielo oggi questo è ancora al futuro e quando Egli scenderà allora Egli verrà con un grido e con la voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio e allora i morti in Cristo risusciteranno e noi che siamo in vita che rimaniamo saremo mutati questo è ancora il futuro quello che è al presente è scritto qui nello stesso contesto è il messaggio che in primo luogo deve andare avanti e va avanti il pane della vita che viene portato alla sposa l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola di Dio fratelli e sorelle poiché ho tradotto tutte le predicazioni del fratello Branham in lingua tedesca perciò sono a conoscenza con tutti gli errori che sono stati portati nel messaggio che sono stati interpretati nel messaggio io sono a conoscenza con quello per favore non arrabbiatevi con me io sono geloso della chiesa di Gesù Cristo con una santa gelosia i compromessi sono esclusi non con me non con me è impossibile per tutta l'eternità è impossibile veniamo al punto questo lo lasceremo ora forse lo toccherò in una lettera circolare per mostrare ai nostri fratelli e alle sorelle in tutto il mondo per mostrare loro come il nemico realmente si intrufola e non solo la Bibbia è stata interpretata centinaia di volte e nulla è rimasto nell'originale nel giusto contesto ma anche il messaggio non è stato lasciato nel modo in cui dovrebbe essere ma in così tanti casi è stato preso fuori dal contesto per me è una situazione insopportabile ma poiché noi abbiamo preso la nostra posizione per la parola e nella parola perciò siamo rivestiti con la piena armatura di Dio per prendere posizione contro tutte le macchinazioni del nemico e la parola di Dio rimane la spada dello spirito e proprio alla fine il diavolo sarà messo ai piedi del Signore che signoreggerà sopra i suoi nemici ed ecco come Dio darà la vittoria alla Chiesa Sposa come l'abbiamo mostrato nella lettera circolare Satana sin dall'inizio ha cercato di distruggere il piano di Dio di annullarlo e di distruggere la Chiesa ma Dio egli vigila sulla sua parola sopra la sua Chiesa e noi siamo guidati fino alla fine tenuti in salvo da Dio chiunque legge nel libro dell'Apocalisse troverà del continuo il termine che Giovanni quando ricevette la rivelazione come Giovanni l'ha usato Apocalisse capitolo 5 verso 1 Apocalisse capitolo 5 verso 1 e Dio vidi verso 2 e Dio vidi verso 6 e Dio vidi si può andare di capitolo in capitolo e qui dice del continuo andiamo nel verso 11 e Dio vidi ed è il continuo io vidi dopo il capitolo 6 verso 1 poi vidi quando l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli io voglio collegare questo ora che gli uomini di Dio i profeti non parlavano soltanto essi erano veggenti essi erano veggenti e se prendiamo i profeti dell'Antico Testamento prendiamo Isaia capitolo 6 e gli vide il Signore seduto sul suo trono e gli vide l'esercito celeste alla sua destra e alla sua sinistra prendete Ezechiele capitolo 1 e gli vide il Signore sul suo trono e gli lo descrive dall'alto in basso in ogni dettaglio dopo fino ad Apocalisse capitolo 4 Giovanni vide una visione egli vide una porta aperta nel cielo e dopo poteva dire nel verso 2 e subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto egli lo vide era un veggente e quello che gli vide tramite ispirazione gli fu dato quello che abbiamo oggi davanti a noi quello che è stato scritto e noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore per la sua preziosa e santa parola si può andare in tutto il libro dell'Apocalisse ed io vidi ed io vidi ed io vidi una grande moltitudine che nessuno poteva contare fino a io vidi un nuovo cielo e una nuova terra gli uomini di Dio erano veggenti e il fratello Branham era un veggente egli vedeva visioni Dio glielo rivelava Dio glielo mostrava e da quello che gli era mostrato veniva dopo l'ispirazione così noi ringraziamo Dio che non seguiamo qualcuno che ha immaginazioni ma seguiamo il Signore il quale sin dall'inizio ha usato i suoi servitori e profeti mandandoli per proclamare il suo consiglio e lasciarlo a noi vale a dire quello che dobbiamo conoscere ritorniamo indietro in Apocalisse capitolo 21 verso 7 chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio giusto alcune scritture per averlo davanti a noi vale a dire sin dall'inizio io lo leggo ancora una volta Apocalisse capitolo 21 verso 7 chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio quale parola ci ricordiamo ora 2 corinzi capitolo 6 e qui nel verso 18 2 corinzi capitolo 6 verso 18 e sarò come un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie dice il signore onnipotente ma cosa è scritto nel verso 17 nel verso 17 si tratta della separazione della chiamata fuori che deve aver luogo prima del verso 18 ora il verso 17 perciò uscite di mezzo a loro e separatevene dice il signore e non toccate nulla di immondo ed io vi accoglierò questo ci porta in seconda a Samuele capitolo 7 verso 14 dove si parla del nostro signore come figlio che sarebbe venuto in primo luogo andiamo in Genesi capitolo 18 verso 10 Genesi 18 verso 10 ieri abbiamo detto che Dio dava in primo luogo delle promesse e quando si avvicinava il tempo dell'adempimento delle promesse allora il signore Dio parlava di nuovo e dopo in Genesi capitolo 18 verso 10 e gli disse ad Abramo Genesi capitolo 18 verso 10 tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo ed ecco Sara tua moglie avrà un figlio ora giusto per dire questo il figlio che era stato promesso era l'erede era l'erede e perciò Paolo scrive ai Galati per tutto il tempo che il figlio è minorenne non è affatto differente dal servo ma quando il figlio diventa adulto allora ha luogo l'adozione quale figlio tuttavia veniamo qui al punto successivo vale a dire in Genesi capitolo 22 Genesi capitolo 22 versi 15 e 16 l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta oh come straordinario i profeti vedevano visioni i profeti udivano la straordinaria voce di Dio il Signore con le loro orecchie verso 16 io giuro per me stesso dice il Signore ed ora viene qualcosa di potente che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo la promessa era naturalmente in Isacco la tua eredità sarà benedetta ed ora Isacco doveva essere sacrificato la discendenza non era ancora qui sembrava che quello che Dio stesso aveva promesso quello che egli voleva fare sembrava che volesse distruggere la stessa cosa no Dio stava provando Abramo non solo nella fede ma anche nell'obbedienza fratelli e sorelle questo appartiene all'elezione questo è indirizzato a quelli che credono le promesse di Dio e che sono eredi di Dio e coeredi di Cristo che possono provare la loro fede tramite l'obbedienza Giacomo ha scritto in modo particolare che Abramo non fu giustificato soltanto per la fede ma fu giustificato tramite l'obbedienza è la cosa principale che Dio gli promise e gli diede di sacrificarlo ed egli era pronto a farlo ma c'era una rivelazione prima di quello in ebrei capitolo 11 potete leggere egli era convinto nel suo cuore era convinto che Dio era in grado di risuscitare Isacco dalla morte e che sarebbero ritornati entrambi e perciò Abramo poteva dire ai servitori rimanete qui io e il mio figliolo andremo ad adorare e ritorneremo di nuovo sebbene sapeva che doveva sacrificare Isacco egli poteva dire noi ritorneremo fratelli e sorelle questa è una fede vivente che è fondata nella parola di Dio e questa fede è data a voi e a me a noi Esodo capitolo 4 versi 22 e 23 Mosè disse al faraone tramite l'incarico di Dio lascia andare il mio figliolo affinché possa servirmi ora Israele era il figlio che era stato chiamato fuori affinché dopo potesse essere adempiuto io ho chiamato il mio figliolo dall'Egitto le profezie della Bibbia sono il fondamento per quello che è accaduto in seguito nel Nuovo Testamento con il nostro Signore e con tutti i figli e le figlie di Dio in Matteo capitolo 1 verso 21 ci viene riportato in merito alla nascita del figlio di Dio in Matteo capitolo 3 verso 17 ci viene parlato dell'unzione della consacrazione che lo Spirito Santo venne sul nostro caro Signore e come dopo egli iniziò il suo ministero Giovanni aveva quasi terminato il suo ministero e il momento era giunto in cui il nostro Signore come figlio dell'uomo come profeta doveva adempiere il suo ministero ed ecco che accadde il battesimo ebbe luogo e per dirlo chiaramente l'unzione il battesimo dello Spirito ebbe luogo il rivestimento con la potenza dall'alto ebbe luogo poiché egli doveva essere il Cristo l'unto la parola Cristo in ebraico è Messia l'unto Messia in greco Cristo in lingua tedesca è l'unto Cristo e questa è la nostra confessione che Gesù Cristo non solo Gesù ma Gesù Cristo Yahshua Messia egli è entrambi Redentore Salvatore è tutto quello che Dio voleva fare attraverso di Lui egli doveva essere l'unto affinché sotto l'unzione adimpisse il suo ministero dopo noi veniamo in Matteo capitolo 17 verso 5 dove il nostro Signore era sul monte della trasfigurazione e quando la gloria di Dio scese ed egli fu trasfigurato e i suoi vestimenti erano come lino bianco brillante dopo venne la voce dalla nuvola della gloria questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo ora viene la transizione non solo il ministero che egli esercitò ma ora è indirizzato a noi di ascoltarlo e questo ci porta in Apocalisse capitoli 2 e 3 chi ha orecchie ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese secondo Efesini capitolo 1 verso 5 noi siamo predestinati come figli e figlie di Dio secondo il beneplacito della sua volontà fratelli e sorelle possa essere detto qui ancora una volta come il figlio di Dio era la parola la parola che è stata fatta carne il seme originale che fu promesso sin dal giardino dell'Eden che il seme di Dio sarebbe venuto per schiacciare la testa del serpente e darci la redenzione egli la parola originale e la parola era con Dio in primo luogo la parola era Dio e dopo era con Dio e poi la parola fu fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi il pensiero principale è quello che noi dalla stessa parola dallo stesso seme noi siamo nati di nuovo ad una vivente speranza che Gesù Cristo è il primo genito in mezzo a molti fratelli per noi è quasi incomprensibile certe volte guardiamo a noi stessi come vasi deboli uomini come gli altri pieni di debolezza e di errori tuttavia lasciatemi dire questo qui per vostro incoraggiamento Dio non era interessato a quello che le persone non avevano fatto in modo corretto egli era interessato principalmente a quello che le persone avevano fatto secondo la sua parola e la sua volontà guardate a Mosè egli sapeva esattamente che gli era permesso di sposare solo una della sua tribù egli sposò la figlia di un sacerdote Dio non disse nulla e quando giunse l'ora dell'incarico allora Dio rivelò se stesso senza accusarlo senza dire Mosè cosa hai fatto anche quando Miriam ed Aronne si levarono contro di lui e dissero a Mosè perché Mosè prese qualcuna cosa fece Dio egli non fece i conti con Mosè egli non era affatto interessato a ciò non fece i conti con Mosè egli fece i conti con Aronne fece i conti con Miriam perché Dio lo permise perché affinché nessun uomo sia onorato e affinché nessun uomo possa apparire come infallibile ma che tutta la gloria appartenga al Dio Onnipotente pensiamo a tutti gli altri uomini quando persino si diventa rosso in faccia si arrossisce quando pensiamo a Davide a Salomone non si deve persino leggere ciò non possiamo persino leggerlo e che ne di Dio cosa fece Dio al riguardo un giorno Dio parlo a Salomone io ti ricevo come un figlio tu sarai mio figlio sì e tutti gli altri osservavano 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 e quando qualcuno diceva qualcosa non aveva importanza qual era la cosa principale Davide aveva in cuore di edificare una casa al Signore di edificare un tempio egli cercava tutto il materiale stava preparando ogni cosa e Salomone edificò il tempio così che ne è ora e di questo si tratta oggi l'edificazione della Chiesa di Gesù Cristo nostro Signore di questo si tratta non che ci giudichiamo gli uni gli altri secondo la carne ma come ha scritto Paolo da ora in poi non conosciamo nessuno secondo la carne ma lo conosciamo secondo lo Spirito e ci riceviamo gli uni gli altri come Dio ci ha ricevuti in Cristo ora i tre brani dall'epistola di Giovanni dove si parla dei vincitori primo Giovanni capitolo 2 dal verso 12 al verso 14 primo Giovanni capitolo 2 dal verso 12 figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome non in un certo periodo di tempo saranno perdonati no perdonati tramite il sangue dell'agnello sono perdonati e non sono più ricordati verso 13 padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno una parola una parola indirizzata ai giovani che sono attaccati dal nemico in modo particolare e devono soffrire in modo particolare giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno ragazzi vi ho scritto perché avete conosciuto il padre anche oggi auguriamo a tutti i giovani auguriamo loro che vincano il maligno che vuole condurli nella via larga entrate per la porta stretta perché larga è la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano possa ognuno trovare oggi la porta stretta e possono tutti entrare in essa ricevete la vittoria di Dio per voi stessi così come è certo che Gesù Cristo ha vinto il maligno così è certo che Egli ci dà il potere la potenza di vittoria per vincere il maligno dopo continua nel verso 14 con l'ammunizione padri vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno questo è stato riassunto qui in un verso la parola di Dio rimane in voi continuamente ed ecco come voi avete vinto il maligno non tramite la nostra propria forza senza la vostra propria volontà senza i nostri sforzi ma come ha scritto Davide io riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te specialmente per tutti i giovani ora serbate la parola di Dio nel vostro cuore e sarete custoditi Dio ha una via per voi e per tutti noi per tutti noi solo se la parola di Dio è in noi continuamente qui è scritta la parola continuamente quando uno entra in un appartamento allora questa è l'abitazione se la parola di Dio dimora in voi continuamente non solo durante la riunione durante la predica ma quando la parola di Dio dimora in voi continuamente solo tramite questo voi avete vinto il maligno e dopo sarà manifestato che non è la vostra potenza era la potenza di Dio in voi la potenza di Dio in voi la seconda scrittura in primo Giovanni capitolo 4 primo Giovanni capitolo 4 e qui leggiamo il verso 4 primo Giovanni capitolo 4 verso 4 voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo da prima parla di quelli che ricevono un altro spirito che non confessano Gesù Cristo come colui che è venuto nella carne e dopo ai veri credenti è detto voi siete da Dio e li avete vinti avete vinto tutti quelli che predicano un altro Gesù li avete vinti voi siete da Dio e in relazione a questo egli parla naturalmente dello spirito dell'anticristo primo Giovanni capitolo 4 verso 3 e ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo come lo confessa la scrittura come lo insegna la scrittura chi non lo confessa in quel modo non è da Dio e quello è lo spirito dell'anticristo del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo cosa crede tutto il mondo anticristo tutti credono che Gesù Cristo quale figlio di Dio è nato è generato nell'eternità dal padre una simile dottrina è anticristo è blasfema non un figlio divenne figlio ma la parola fu fatta carne Luca capitolo 2 verso 11 oggi la città di Davide è nato per voi Cristo l'unto che è il Signore egli era il Signore in tutto l'Antico Testamento ma non figlio egli era il Signore e quando il Signore quale re venne da Abramo per celebrare con lui la vittoria su tutti i re pagani allora egli quale re di Salem era senza padre né madre senza inizio né fine ebrei capitolo 7 ci dà chiarezza riguardo a chi egli era e dopo viene il paragone con Gesù Cristo il nostro Signore che non era nato in cielo ma nacque a Bethlehem come scritto in Michea capitolo 5 io spero che voi lo comprendiate chiunque predica Gesù in modo diverso è anticristo c'è solo una cosa nell'Antico Testamento il figlio di Dio era stato promesso in tutte le scritture io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliolo parlando al futuro non riferendosi all'eternità io sono sempre stato un padre per lui e gli sarò sempre padre bisogna leggere la Bibbia precisamente lasciando le cose come sono e lasciandosi ammaestrare a Dio ogni altra cosa non è per noi dunque se in tutto l'Antico Testamento era scritto l'annuncio del Messia del figlio di Dio allora noi abbiamo l'adempimento nel Nuovo Testamento oggi nella città di Davide è nato per voi Cristo il Signore fratelli e sorelle lì c'è una linea di separazione e proprio alla fine riconosceremo vedremo che soltanto quelli che non accettano la dottrina della Trinità saranno perseguitati tutti gli altri si uniscono in merito a certi soggetti ma la schiera chiamata fuori la Chiesa Sposa non è una parte dell'Unione Mondiale ma è unita sotto Cristo il Capo ora proprio alla fine in chiusura nel caso in cui oggi ci fossero dei battesimi fratelli e sorelle che desiderano essere battezzati tutti noi sappiamo che nel grande mandato è scritto che dobbiamo battezzare nel nome ci sono diverse traduzioni al riguardo non si deve spendere tempo su questo la parola greca nel nome o sul nome è esattamente la stessa io ho dato un'occhiata nell'enciclopedia e perciò alcuni traducono nel nome ed altri traducono battezzati sul nome ma la cosa importante è in merito al nome non in merito ai tre titoli Dio è nostro padre egli ha rivelato se stesso nel figlio e per mezzo dello spirito santo nell'unico nome del patto del nuovo testamento signore Gesù Cristo dunque i nostri fratelli al principio battezzavano biblicamente nel nome del signore Gesù Cristo e guardando indietro Paolo scrisse ai romani tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù in atti degli apostoli capitolo 2 verso 38 dice nel nome e guardando indietro Paolo scrive ai romani tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte la cosa principale è che accada nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore e non che una formula sia ripetuta che è usata per la magia io ve l'ho detto a Perison una provincia del Canada nell'Ontario questo giudeo mi disse egli appartiene alla loggia massonica libera e gli disse io sono un giudeo e mi chiese come era possibile che lui quando è entrato nella loggia massonica libera nel nome del padre del figlio dello Spirito Santo ha dovuto ripetere questa formula io dissi caro Signore le voglio chiedere come è entrato in una simile loggia tuttavia come giudeo e comunque egli ha dovuto usare questa formula che è stata usata in moderato per ogni specie di cosa e quando il clero inizia nel nome del ogni cosa che accadeva nei tempi biblici è stato fatto nel nome del Signore Gesù Cristo ed anche lì la Chiesa deve essere riportata indietro al principio il tempo è passato lasciate che riassumiamo Dio ha un consiglio che porta avanti egli ha una Chiesa che chiama fuori che purifica che è santifica che si lascia preparare per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo egli ci porta in conformità con la sua parola e con la sua volontà egli crea in noi la fede e l'ubbidienza senza riguarda tutte le cose che possono accadere nella nostra vita tuttavia noi abbiamo sentito che è lo Spirito di Dio che ci guida in ogni verità e come scritto in Romani capitolo 8 che noi possiamo testimoniare nulla può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore lasciate che apparteniamo ai vincitori a quelli che hanno vinto tramite il sangue dell'agnello e tramite la parola di Dio purificati santificati preparati per il giorno glorioso quanti di questi due esempi che ho preso dalle predicazioni del fratello Brano quanti hanno compreso quanti l'hanno compreso in modo giusto fratelli noi abbiamo il compito di combattere per la verità di prendere posizione per la verità e di rimanere nell'equilibrio quanti di voi ci sosterranno nelle vostre preghiere amè sì noi abbiamo bisogno delle vostre preghiere ed ora noi ringrazieremo insieme il Signore nostro Dio lega ancora un verso in primo Giovanni capitolo 5 primo Giovanni capitolo 5 e qui leggiamo il verso 4 poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede non che vincerà ma ha vinto egli ha vinto la sua vittoria è la nostra vittoria benedetto e lodato sia il nostro Signore ora e per sempre amén alziamoci in piedi per pregare cantiamo così qual sono e dopo esamineremo noi stessi nella presenza di Dio e gli chiederemo di salvare di guarire e di confermare la sua parola grazie Grazie a tutti. Ne abbiamo? Sì, ce ne sono alcuni. Abbiamo degli ammalati in mezzo a noi che hanno bisogno di essere toccati dal Signore? Grazie. Grazie a miei fratelli e sorelle che hanno ancora difficoltà a comprendere la parola rivelata e danno il desiderio e la brama che il Signore apre il loro intendimento per la scrittura. Noi pregheremo insieme, insieme crederemo e insieme lo sperimenteremo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per la tua grazia, per il prezioso sangue, il sangue del nuovo patto. E ti ringraziamo ancora una volta per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo che riveli te stesso a noi, che tu parli con noi e che tramite il tuo Santo Spirito ci guidi in tutta la verità. Caro Signore, tu sei geloso della tua Chiesa e il tuo popolo è pronto a servirti. La linea di separazione attraversa. La luce è separata dalle tenebre. La verità è separata dall'errore. La parola è separata dall'interpretazione. Caro Signore, qui c'è la tua Chiesa, il tuo popolo, il popolo che tu hai chiamato fuori. Tu ci hai benedetti. Noi ti ringraziamo per questo. Ti lodiamo e ti glorifichiamo. Salva tutti i perduti. Guarisci tutti gli ammalati. Libera tutti quelli che sono legati. E conferma la tua preziosa e santa parola. Noi ti ringraziamo di cuore per tutte le benedizioni, per ogni parola, per ogni rivelazione, per ogni accesso nel tuo piano di salvezza. Benedici in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Benedici la tua Chiesa dalle ricchezze della tua grazia. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. 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 Potete sedervi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.